Sarguru, quando faccio volontariato per ingegneria anteriore, i miei livelli di energia sono molto alti. Gli stessi piatti, quando li lavo a casa, non sento lo stesso livello di energia. Come rendere la mia casa, il mio lavoro, tutto come un ashram? Dovresti dare tutto a me. Davvero. Comunque non verrò a mangiare a casa tua tutti i giorni. Ma nella tua mente devi darlo via. Qui lo fai come un'offerta. È una cosa bella. Lì lo fai come un'incombenza. È una cosa brutta. Entrambi lo stesso lavoro. Sei solo tu. Non è così? Stessi piatti, stesso lavoro. Sei solo tu che puoi renderlo infelice o gioioso. Quindi anche quello che fai a casa e in ufficio, perché non lo fai come un'offerta? Cosa te lo impedisce? Non chiederò il tuo... Non verrò a rubarti lo stipendio. Non verrò a mangiare il tuo cibo. Perché non lo fai semplicemente come un'offerta? Funzionerà benissimo. Funzionerà benissimo. Non solo perché il tuo approccio è cambiato. Soprattutto sei diventato ricettivo per la grazia. Questa è la cosa più significativa. Questa è la cosa più importante nella tua vita. Diventare disponibile alla grazia. Se quell'unica cosa non c'è, questo è un compito in salita. Un compito in salita. Un compito quasi impossibile. Non dirò che è impossibile. Ma straziante. Se vai con la grazia, scivoli senza sforzo, con gioia. Se provi a camminare, allora è un viaggio alquanto straziante. Non capisco quale sia il punto che chiunque renda il processo della vita spiacevole per se stesso. Non sappiamo quali grandi cose diventerai nella tua vita. Se scalerai il monte Everest o no. Se correrai cento metri in otto, no, dovremmo dire sette secondi o no. Se batterai bolto, no. Se diventerai un miliardario, no. Non lo sappiamo. Ma quest'unica cosa te la meriti. Che il processo della vita sia un'esperienza piacevole per te. Quest'unica cosa deve accaderti. Non è così? Quest'unica cosa ogni essere umano se la merita. Non è così? Altre cose a seconda delle loro capacità. Tutte le altre cose a seconda delle loro capacità. Quest'unica cosa ogni essere umano se la merita. Che tu renda l'esperienza della vita un processo piacevole. Almeno questo deve accadere. Non è così? Altre cose non sappiamo. Possono accadere, possono non accadere. Perché sono soggette a varie realtà. Non solo a te. Quelle situazioni non sono solo tue. Non è così? Quelle situazioni sono così tante cose. Quest'unica cosa la puoi fare. Se quest'unica cosa accade, la vita è bella. A seconda delle nostre capacità, ognuno farà qualunque cosa può fare. La vita è tutta qui, non è così. Ma quest'unica cosa dovrebbe accadere. Quindi, devi essere un volontario. Sempre. Ciò che essere un volontario significa è fare volontariato significa che stai facendo la tua vita con volontà. Significa solo questo. Adesso, se dici sono un volontario, ciò che significa è sto facendo qualunque cosa sto facendo con volontà. Sì? Quindi questa è tutta la scelta che hai. Puoi fare la tua vita con volontà o contro la tua volontà. Se la fai con volontà, diventa una storia d'amore. Se la fai contro la tua volontà, diventa uno stupro. Se la fai con volontà, diventa il tuo paradiso. Se la fai contro la tua volontà, diventa il tuo inferno. Sì. Questa è tutta la differenza, non è così? Qualunque cosa tu faccia nella tua vita, se la fai con volontà, è una cosa bella. Se ti accade contro la tua volontà, è una cosa orribile, non è così? Essere un volontario non significa lavare i piatti. Non significa tagliare la verdura. Non significa questo o quello. imparare a diventare volenteroso in ogni tipo di situazione. Che fai ogni momento della tua vita con volontà, non senza volontà. Perché nel momento in cui arriva la mancanza di volontà, anche se ti accade la cosa più bella, ti senti come se fossi molestato dalla vita. Sì o no? Non ne hai la volontà, ma ti spingeremo in paradiso. Soffrirai. Come fai a sapere che non sei già in paradiso? C'è qualche prova? Hai qualche prova tra le mani che questo non è il paradiso? E allora? Siccome non hai la volontà, persino il paradiso è brutto. Se hai la volontà, è molto bello. E solo se hai la volontà, diventi disponibile alla grazia. Altrimenti, devi arrancare per ogni passo. Non è facile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. No.